Bene, buonasera, vediamo come importare rapidamente con un plugin oggetti scaricabili liberamente da Sketchfab per chi non lo sapesse Sketchfab è una specie di marketplace che però fornisce anche moltissimi modelli scaricabili tutti i modelli che vedete che hanno questa freccia in giù sono sostanzialmente scaricabili la sequenza vorrebbe che vengano scaricate praticamente cliccando e poi andando nella mascherella e facendo download 3D models, facendo un unzip del file scaricato andando poi a prendere le varie opzioni e poi in qualche modo farle importarle dentro Blender però è possibile usufruire di un plugin per Blender che si chiama Sketchfab Blender Plugin di cui metterò poi il link in descrizione il quale andando sul sito, quindi da Sketchfab Blender Plugin andando nelle release, vedete che c'è una release fatta l'anno scorso quindi relativamente recente che è la 1.5.0, scaricate questo appunto zip localmente e poi andate praticamente dentro Blender e dentro Blender cosa fate? Andate in Preferenze e in Preferenze sotto gli Addons fate l'installazione praticamente di questo plugin quando installate l'addon vi compare questo che dovete mettere la spunta, sapete, no? per poterlo usare e soprattutto dovete anche poi andare qui a specificare dove andate poi a scaricare le varie cose quindi metto, ho fatto una cartella prima che si chiama Sketchfab c due punti Sketchfab la confermo, ok? quindi adesso tutte le cose che scaricherò andranno poi a finire dentro questa tabella dentro questa cartella ok? adesso come funziona? in realtà prima di tutto dovete attivarlo qui, insomma, come si fanno ad attivare i plugin è praticamente questione di aprire praticamente con questa parte di destra dello schermo di Blender che si può premere o con la N oppure cliccando questa freccina e poi compare comunque una tra le tante possibilità che avete cioè ti comparirà dopo averlo installato abilitato anche la parte Sketchfab qua in alto ti comparirà un tastone all'inizio dove vi dirà di abilitare e quindi dovete cliccarlo e poi dovete mettere l'utente e la password con cui vi collegate a Sketchfab una volta fatto questo potete fare delle ricerche ad esempio qui ho fatto una ricerca cercando una chitarra in guitar la selezione è sempre in inglese e vedete che in inglese mi compaiono sostanzialmente un po' di opzioni quindi se io vedo che c'è una chitarra che mi interessa qui la clicco e a questo punto qui mi compaiono praticamente le caratteristiche quindi sostanzialmente mi dice ad esempio che è una Creative Commons e ci sono tutte le varie informazioni c'è anche il link eventualmente se io clicco il link praticamente ottengo la pagina dove è questa chitarra questo è utilissimo se dovete poi dire da dove l'avete preso cliccate il link ora farò un po' di video dove spiegherò come poi ridurre il numero di vertici e anche le texture perché questo non è particolarmente grosso ma ci sono spessissimo dei file su Sketchfab che sono enormi che hanno milioni di vertici e in ogni caso devono essere poi ricondotti per poter essere scaricati nei mondi virtuali comunque ad esempio adesso ho questa chitarra sotto mano cancello il mio cubo e poi faccio vedete con un solo clic faccio Import Model e quindi con Import Model vedete che abbiamo la nostra chitarra ricordiamo che per vederla al meglio dovete sempre cliccare sul terzo sulla terzo cerchio che c'è qua sopra quello Shading e premendo sul shading se tutto è a posto ecco vedete ci impiega un attimino comunque dovrei farvi vedere praticamente i colori eventualmente le texture vedete che se ci avviciniamo vedete questo qui è di un bel colorino e quindi poi nei prossimi video vediamo come eventualmente non tanto per la chitarra questa ma come ottimizzare questo oggetto per poterlo importare per esempio in Second Life oppure in Cospace nei formati più idone è tutto grazie grazie